In questa parte del corso, ti introduco alla gestione e codifica dell'anagrafica articolo di magazzino, proponendoti una panoramica sulle funzionalità. Iniziamo con concetti generali, inerenti la gestione, per passare ai successivi approfondimenti. Entriamo in procedura, e selezioniamo la nostra azienda, sulla quale vogliamo gestire il magazzino, e confermiamo tramite apposito pulsante. Questa funzione permette di gestire l'archivio degli articoli dell'azienda, consentendo l'inserimento, la variazione e la cancellazione delle anagrafiche. Permette di gestire articoli veri e propri, descrizioni, testi fissi e variabili, spese e prestazioni, campionari, articoli di lavorazione, distinte basi commerciali, D, B, A. Consente la gestione degli articoli in conto deposito. Per creare una anagrafica articolo, occorre digitarne il codice principale. Alla conferma, con il tasto invio, si apre una finestra in cui vengono richiesti, la tipologia dell'articolo. Il dato è accessibile solo in fase di creazione, e non è modificabile successivamente. Numero della struttura. Gruppo merceologico. Confermando la finestra, accedi alla scheda anagrafica, che sarà diversa a seconda del tipo di articolo che si sta inserendo. Si passa all'immissione della descrizione dell'articolo. È possibile definire un codice alternativo. Tale codice potrà, a sua volta, essere utilizzato per le ricerche. Digita quindi la liquota IVA, e l'unità di misura principale. Queste informazioni sono obbligatorie per la memorizzazione. Definite queste informazioni, è quindi possibile salvare la anagrafica. I caratteri disponibili, per la descrizione, dipendono dalla dimensione assegnata al codice. I caratteri gestiti, per codice e descrizione, sono complessivamente 40. Più è corto il codice, più caratteri saranno disponibili per la descrizione. È possibile utilizzare il carattere punto interrogativo. In tal caso, operando dalla funzione, emissione revisione documenti, il cursore si posiziona direttamente sul carattere punto interrogativo, e consente di digitare quanto desiderato. Risulta utile per la gestione di articoli generici, per i quali non è possibile stabilire una descrizione fissa, e non necessitano di una anagrafica specifica. Sono disponibili ulteriori 40 caratteri aggiuntivi, per poter dettagliare ulteriormente la descrizione. La descrizione aggiuntiva, non è presente per gli articoli descrittivi di tipo D. Puoi indicare un codice alternativo che, a differenza del codice principale dell'articolo, non deve essere necessariamente univoco. Lo si può utilizzare per vari scopi. Come chiave di ricerca all'interno di una categoria di articoli. Come codice a barre, EAN, UPC, Code39, ecc. Codice utilizzato dal fornitore. Codice di un prodotto alternativo, ad esempio nel campo dei pezzi di ricambio, e altri possibili casi di utilizzo a seconda delle necessità. Definendo questa informazione, in base alle esigenze, l'articolo potrà essere ricercato per codice primario, o per codice alternativo. Se si desidera utilizzare tale campo, per definire un codice EAN, si può utilizzare l'apposito pulsante che calcola il carattere di controllo per la porzione del codice immesso. Da tale campo, è inoltre possibile inserire, o richiamare, ulteriori informazioni, quali i codici alias e i codici abbinati dell'articolo in oggetto. Alliquota IVA. Informazione obbligatoria per tutti gli articoli, tranne per gli articoli di tipo S. È possibile definire sia l'alliquota, sia un codice di esenzione precedentemente codificato. Nei documenti di magazzino, verrà proposto e utilizzato il dato immesso. È comunque possibile variarlo. Fanno eccezione gli articoli di tipo S, spese. Se non viene immesso alcun dato, l'imponibile verrà ripartito proporzionalmente fra le aliquote degli articoli del documento. Digitando un valore da 0,1 a 99,9, viene identificata l'alliquota IVA corrispondente. Se il numero è preceduto da un carattere alfabetico, questo definisce il tipo di esenzione, ed il numero ne definisce l'articolo di esenzione. È sempre disponibile il pulsante di ricerca, che permette di visualizzare le esenzioni codificate. La maschera di emissione di un articolo si suddivide in tre aree. Area dati anagrafici Dati commerciali Progressivi La parte anagrafica contiene i dati che identificano l'articolo, quali il codice, la descrizione, il codice alternativo, l'aliquota IVA da utilizzare nelle movimentazioni dello stesso, e l'unità di misura principale. Indica l'unità di misura secondaria, se l'articolo può essere soggetto a movimentazioni con unità di misura differenti. Conferma, o definisci i decimali che vuoi utilizzare per la movimentazione dell'articolo. Puoi decidere di movimentare l'articolo a confezioni, indicando la quantità di ogni confezione. Posizionati sul campo precedente, per definire se la quantità deve essere proposta per la movimentazione, o se vuoi poter immettere i colli da movimentare con questa quantità. Definita la seconda unità di misura, in questo campo, definisci il rapporto di conversione tra l'unità principale, e la secondaria. Ad esempio unità principale cassa, e secondaria bottiglia. Se una cassa contiene 10 bottiglie, il coefficiente diventa 10. Visualizzi quindi il costo ultimo sostenuto per tali articolo. Utilizza il pulsante predisposto per vedere anche il costo ultimo sostenuto nell'anno precedente, e la valuta relativa. Disponi del costo standard di acquisto, utile per gestire listini a ricarico fisso, listini che non variano al variare del costo ultimo. Questo ultimo campo, è manuale. Nell'area dati commerciali delle anagrafiche articolo, immetti i codici relative ai primi tre fornitori abituali dell'articolo. Per ogni fornitore, utilizzando il pulsante predisposto, puoi definire ulteriori informazioni, quali i giorni di riordino per quel fornitore, e il quantitativo di merce da ordinare. Immetti il prezzo di acquisto pattuito con il fornitore, per l'acquisto dell'articolo. Se immesso, verrà proposto come prezzo di acquisto nei documenti intestati a questo fornitore, per questo articolo. Indica il codice dell'articolo utilizzato dal fornitore. Potrai così stampare il documento ordine, da inviare al fornitore, già con il suo codice articolo. Puoi definire gli sconti a scaglioni sulla quantità, da applicare nel documento intestato a questo fornitore per questo articolo. Indica il quantitativo minimo di merce in vendita. Quando nel documento di magazzino la quantità risulta inferiore, viene dato un messaggio di avviso. I campi prendi e paghi, sono informativi e non soggetti ad alcun controllo. Associa l'imballo da utilizzare, quando movimenti l'articolo, scegliendo tra imballo a rendere, o a perdere. Definisci la tabella sconti, sconti a quantità, e provvigioni, allo scopo di proporli automaticamente nei documenti di vendita. Indica la categoria da utilizzare ai fini della determinazione dei prezzi di vendita, nei listini gestiti. Associa la categoria statistica, che permette elaborazioni, e stampe filtrate su tale campo. La data creazione riporta la data in cui è stato creato l'articolo, e accanto, visualizzi in quale data è avvenuto l'ultimo aggiornamento di questa anagrafica. Indica infine, i codici del piano dei conti che verranno utilizzati per scrivere la prima nota, relativamente al valore movimentato, sia in vendita che in acquisto. La sezione relativa ai dati progressivi dell'articolo, a cui si può accedere con apposito pulsante, contiene le informazioni relative ad ogni magazzino gestito. La sezione appare solo per gli articoli di tipo A, di tipo L lavorazione, e di tipo P, articoli in conto deposito, e se l'unita di misura non è a C, a corpo. Tramite il pulsante predisposto, accedi al magazzino desiderato per visualizzare i dati di pertinenza. Per ogni magazzino puoi indicare una ubicazione e sotto ubicazione che ti permettono di individuare l'articolo in quel magazzino e indicare la scorta minima e la scorta massima dell'articolo che definisci per il magazzino selezionato. Il campo RM, ti visualizza la percentuale di ricarico medio di vendita, in base ai documenti inseriti o modificati. Il dato non è editabile. I dati relativi alla quantità, e valore dell'inventario, sono modificabili se sei nel primo anno di gestione. Negli anni successivi, sono gestiti automaticamente dalla procedura. Puoi modificarli solo se l'anno precedente è stato chiuso in definitivo. In tal caso risulta tuttavia più pratico e sicuro, operare attraverso l'inserimento di un documento IN, inventario, che agisce sui soli progressivi di inventario, lasciando inalterati i carichi e gli scarichi. Gli altri progressivi, relativi ai carichi, agli scarichi, all'ordinato a fornitore e all'impegnato a cliente, non sono mai editabili. Vengono aggiornati solo attraverso l'inserimento o modifica di documenti di magazzino. La funzione di riorganizzazione degli archivi, ricostruisce questi ultimi progressivi in base ai documenti presenti negli archivi.